Non si placa la scia di sangue causata dalle morti bianche, ultima in ordine di tempo ieri sera quando a perdere la vita è stato un vigile del fuoco volontario intervenuto per domare un rogo che si è sviluppato all'interno di un capannone di un'azienda specializzata nella vendita di detersivi di San Donato milanese. Pinuccio Lavinia, vigile del fuoco volontario del distaccamento di Pieve Emanuele, di 48 anni, è morto dopo essere rimasto travolto dal crollo di una porzione di tetto mentre cercava di spegnere l'incendio. A ricostruire l'accaduto, Mario Abate, vice comandante dei vigili del fuoco di Milano, eravamo nelle fasi iniziali, tre o quattro ragazzi del distaccamento di Pieve Emanuele si erano posizionati a ridosso del portone principale e stavano predisponendo le lance, quando si è sentito un rumore sordo e si è staccata una trave dal tetto del fabbricato. Erano all'esterno del capannone, ha proseguito Abate, alcuni hanno indietreggiato e pensavano di essere tutti in salvo, invece così non era. Abate ha spiegato che l'incendio è sostanzialmente domato, anche se ci sono ancora dei focolai sotto la tettoia crollata che stanno dando qualche difficoltà nelle operazioni di spegnimento. Dieci le squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la notte e che si sono fermati anche questa mattina, mentre i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese sono al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. I rilievi sull'area distrutta dall'incendio appena domato cominceranno probabilmente ancora lunedì. Prima non è possibile, a causa delle alte temperature del materiale bruciato, il fuoco si è subito propagato, in quanto nel capannone erano stipati fusti con detersivi e saponi e dunque con alte componenti chimiche. Le indagini, oltre alle cause dell'incendio, riguarderanno anche la sicurezza sui luoghi di lavoro. Intanto la Procura di Milano ha aperto un'indagine per omicidio colposo e incendio doloso al momento a carico di gnoti. L'indagine è coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal PM Francesco Ciardi, che hanno immediatamente posto sotto sequestro il capannone per consentire ai vigili del fuoco di effettuare i primi incertamenti. I PM hanno già disposto l'autopsia che si terrà nei prossimi giorni. Intanto sulla vicenda è intervenuto anche il governatore Lombardo Attilio Fontana, che esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima, ha assicurato che la Lombardia porrà in prima linea l'attenzione sulla sicurezza sul lavoro. Grazie.